Non è la prima volta che arrivano queste notizie da parte del consigliere Passannante. Vogliamo ovviamente sincerare la popolazione, i cittadini, che nessuno si è fatto male. Fabiano Lorenzin, sindaco di Venegono Superiore, risponde alle critiche sul decoro urbano mosse da Fabrizio Passannante e rassicura tutti. Quel tombino segnalato dal consigliere di Fratelli d'Italia non avrebbe provocato incidenti. Parola della polizia locale. Di solito quando un cittadino si fa male a causa di una piccola insidia, che potrebbe essere anche un tombino, un dislivello di un tombino, di solito arriva nella settimana successiva o il parente o direttamente la persona infortunata e fa la denuncia al protocollo del comune per chiedere il risalcimento del danno o per lo meno per chiedere che l'insidia venga risolta. Per quanto riguarda il verde cittadino, una scelta oculata. È stata una primavera eccezionale, insomma la primavera più piovosa di sempre e ovviamente abbiamo dovuto rimodulare un po' gli interventi, soprattutto quelli che sono già programmati nella normale appalto e ammoltenzione del verde, privilegiando ovviamente le zone del paese che vengono più usate dai cittadini. Le tre aree descritte dal signor Passannante sono la vecchia discarica non più utilizzata, il retro del cimitero e una rotonda. È vero anche che così come è stato fatto in tanti comuni più importanti, vedi Milano ma anche tante città europee, è anche una scelta consapevole quella di andare comunque a non intervenire con degli sfalci troppo radicali. Questo al fine di migliorare comunque la biodiversità. In questi ultimi mesi nel nostro paese sono stati messi in atto e realizzati numerosi eventi e numerose iniziative che hanno coinvolto i cittadini e quindi è stata privilegiata la cura delle zone più vissute del paese, quindi il Parco Pratone, la scuola, le zone antistante, la piazza centrale, la piazza San Giorgio, questo per permettere appunto una vivibilità del paese diversa e la realizzazione di numerosi eventi anche da parte delle associazioni.